Nelle date del 3, 8 e 10 di dicembre ci saranno per la seconda volta, la seconda edizione, il villaggio di Babbo Natale. Questo villaggio di Babbo Natale si snoda in un percorso che è lungo circa 300 metri, un percorso agevole, agevole a tutti, con le carrozzine, con i bambini piccoli non ci sono problemi. Il clou del villaggio è proprio in cima, dove ci si ritroverà con Babbo Natale, che sarà disponibile per fare le fotografie e firmare le letterine ai bambini. Durante tutto il percorso saranno presenti circa 35-40 espositori, che ci tengo a sottolineare sono espositori di artigianato locale, quindi esporranno quelli che sono i prodotti della nostra terra, formaggi, vini, miele e quant'altro, e tutti prodotti di artigianato locale che riguardano manifattura, manifattura con il legno, manifattura con la pelle, manifattura in generale. Quindi sono dei mercatini molto particolari, non rappresentiamo abbigliamento quant'altro, perché abbiamo cercato di tenere questa manifestazione in un ambito più particolare possibile.